le diverse posizioni della diteggiatura vengono numerate a seconda delle leve che noi andiamo ad utilizzare abbiamo già visto nei video precedenti, vi ho già parlato della posizione a vuoto vale a dire la possibilità di suonare le note senza andare ad utilizzare nessuna delle valvo a muovere nessuna delle tre valvole attraverso le leve invece poi esistono le altre posizioni che sono appunto di seguito la posizione numero 1, quindi utilizzando e andando ad abbassare la leva numero 1 e comandando quindi il passaggio tra colonna d'aria nella ritorta numero 1 poi la posizione numero 2, quella in cui noi comandiamo il passaggio della colonna d'aria nella ritorta numero 2 poi la posizione numero 3 in cui andiamo a comandare il passaggio della colonna d'aria quindi il prolungamento della colonna d'aria attraverso la ritorta numero 3 poi possiamo utilizzare la posizione di entrambe le leve 1,2 insieme ricordandoci che la prima ritorta al valore 1 e la seconda al valore 0,5 quindi insieme fanno 1,5 noi deduciamo subito che esse sono pari alla lunghezza della ritorta numero 3 ed effettivamente questa posizione 1,2 è una posizione alternativa alla posizione numero 3 passiamo adesso alla posizione successiva, vale a dire la posizione 2,3 in questa posizione la colonna d'aria viene fatta passare attraverso queste due ritorte la 2 e la 3 che avendo valore la prima 0,5 cioè la prima esattamente la numero 2 0,5 e la numero 3 1,5 il prolungamento diventa complessivamente del valore 2 adesso passiamo alla posizione successiva quindi alla posizione 1,3 in cui vengono abbassate congiuntamente le leve 1,3 quindi si comanda il prolungamento della colonna d'aria nella ritorta numero 1 e nella ritorta numero 3 a questo punto il valore del prolungamento è pari a 2,5 in quanto dobbiamo aggiungere al valore 1,5 il valore della prima ritorta che è 1 quindi abbiamo il valore complessivo 2,5 l'altra posizione l'ultima posizione è la posizione delle leve 1,2,3 usate congiuntamente questa è la posizione con il prolungamento maggiore della colonna d'aria in quanto tutte e tre le valore vengono aperte e il prolungamento avviene dentro le tre ritorte calcoliamo il valore di questo prolungamento quindi sommiamo 1 a 0,5 diventa 1,5 andiamo a sommare anche il valore 1,5 nella terza ritorta e abbiamo complessivamente il valore 3 quindi questo è il prolungamento maggiore queste sono le posizioni della diteggiatura del corpo e del corno riepiloghiamo posizione 0 a vuoto posizione 1 posizione 2 posizione 3 posizione 1,2 che è alternativa alla posizione 3 poi la posizione 2,3 poi la posizione 1,3 e per finire la posizione 1,2,3 della diteggiatura del corno e per finire la posizione 1,3